siamo un campione mondiale c'è dietro tutti i seguidores campione del mondo e sai che hai messo giù una cazzata era una prova tecnica devi dargli qua ma a lungo perché se non gli dai non vieni su ma non c'è stamattina è stata a casa devi dargli quando sei lì se aspetti che arrivi lì sotto non vai fuori più ma non puoi prenderla forte ti va via ma che va via l'ho messo così brutto eh bella non è ma devi dargli un po' da sotto se aspetti da lì che vedi il davanti terza è l'ultima prova non credere che non ci diamo lì terza è l'ultima prova eh ho già fatto tre giri hai già fatto tre giri allargati sotto fino a là va giù all'omazzo adesso basta da lì deve andare via eh che cavolo basta che la prendi da là oggi è tutto devi calcolare 20 centimetri in più di tutto perché se no resti lì tutto così è se no quello ormai quello va in millimetri per conto mio ormai centimetri sono finiti da un pezzo la fa nocchio ha messo giù una zona del cazzo dai vediamo le scorpa che sono meglio il montese ha fallito il montese ha fallito basta il stracciatore non è stato in grado vede dai pilotoni perché tu me li hai fatto vedere se no non riuscivo mica bravo mettiti sotto lele bravo no no di lì non fa in tempo a prenderti stai là vicino e basta e ciao bravo 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 uno ne ha fatti otto non ricordiamo quelli là quello là è il prezona come facevano una volta i tempi che facevano il prezona vai i piedi il prezona non viene conteggiato esatto ma perché è andato di là che doveva venire su di qua bravo 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 bravissimo bravo bravo è bravo 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 questo è stato via tre mesi ma chiaro è allenato eh sei stato via tre mesi ma ti sei allenato a casa e se non faceva il disastro l'inizio era zero almeno si capisce che è deliziale buono e giulamme se c'è un piede ha rotto le piante le dobbiamo rinvasare dopo se non pecca qua fai giù ah si eh dunque già difficoltà eh merda va lì se perdi il peso vai giù uno due tre oramai ti è la foria a tre Lele tocca a te non pare il pulpo che ti attacchiamo la pianta non ti devi toccare la pianta e poi tira il freno con due dita e non ce l'ha mai attaccato gira senza freno lui ma io non so come cazzo fa 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 ma stai scherzando figaro quello cazzo non hai i pesi nelle gare devi usare si ma l'ho giocato perché era era bella pulita adesso forse si già ma dipende come la imposti perché se vai giù giù se vai via vai via e rallenti troppo lì non vai fuori più perché dopo devi gasare e ti scivola non fermarti non fermarti oh non fermarti bravo no non si è fermato lì se ti fermi ti scivola quando sei lì impuntato davanti tirati indietro tutto che almeno un filino guadagni e ma siete lì in quattro siete lì in quattro a guardare gli mettete suggestione cazzarola c'era la bindera che si allargava le 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 facci sognare le le facci sognare